Cosa mi è piaciuto del corso? Tutto, è stato meraviglioso. Lo diceva la Patrizia, mi sembra di volare a mezzo metto da terra. Un incontro che mi ha veramente capovolto sotto tutti i punti di vista. Ce la siamo goduta proprio, anche lei si è presa un bel po' di energia e ne ha data anche tanta. Lo consiglierei perché lo consiglierei a tutti, perché comunque è il regalo più grande che ognuno si può fare. Perché ti cambia veramente la vita e ti fa essere felice, ma veramente. E veramente, sento che dentro di me si sono sciolti questi limiti, mi impedivo di far fluire l'abbondanza. Quindi sento che veramente non posso fare qualunque cosa adesso, veramente. Ciao Patrizia, sei il mio angelo, ti voglio un sacco di bene e te l'ho detto, sarò la tua cozza perché ti seguirò ovunque. Ciao!